Ci vorrei salire ma non ci provo. Ma che dici? Ci posso provare? Ma non lo so di chi è. Penso che ti uccidono se ci provi. Se mi provo ci uccidono. Quindi non lo trovo proprio. Ti piacerebbe ma ormai è un tempo, un tempo. Cavolo, un tempo tu. Ciao, ciao, ciao. Motorini sul mare. La barca. Il nostro meraviglioso paesaggio a Porticello. E siamo da Battolo. Un altro posto stupendo della nostra zona. Stavo preparando un video più serio ed invece incontro loro. I motorini sono carissimi però voglio sentire il rumore. Come facciamo per sentire questo rumore di questi motori? Tutti belli, tutti colorati. Eccezionali però. E poi i tipi che lì... E' un personaggio? Sì. Che carini che siete. Volevo sentire il rumore. Si possono accendere? Si possono accendere? E' un po' di rumore di questo. Vai, 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 vai. Attiva! Grazie ragazzi. E' un piacere, guarda. Certo, certo. Anche per me. Bene signori. Ci possiamo salutare? Grazie. Grazie. Arrivederci. Alla prossima. Grazie. Grazie a tutti.